qui non sono in controllo tutta, ah si, ok ma devo ucciderli io? oh avevo altra scelta in teoria vediamo se c'è roba da prendere no, in teoria questa è la fine del gioco forse dovrò lanciarla con la bomba come va baby girl, ho capito, ho capito oh c***o si, 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 si si, 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 si come fanno a non raggiungermi? ma questi qua mi hanno pure visto strascriptata questa forse perché non vogliono sparare lei però era strascriptata ma ti senti comunque la caga addosso oh c***o ma ma comunque vuole essere tv qui quindi ne preparo a schiacciare F quindi ne preparo a schiacciare F guarda tu puoi ancora fare la cosa giusta qui non è non è che non è No, 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 no. Non ci hanno fatto vedere la fine di Marlene. Certo, perché li ha uccisi tutti. Siamo tornando a casa. Scusate. 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 Si è assicurato. Scusate. 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 Scusate.